Salva guardare i principi su cui si basa ogni residuo a fiducia dei risparmiatori nel sistema bancario. È un ultimo accorato appello quello dell'Associazione Vittime del Salva Banche prima dell'imminente emanazione dei decreti cosiddetti salva risparmiatori. Se i criteri si legge nel comunicato per accedere al fondo di solidarietà sono la truffa e la mancanza di informazione quale vantaggio offre l'arbitrato rispetto ad una causa civile nei confronti delle nuove e vecchie banche che operano in evidente ed innegabile continuità aziendale? Auspichiamo, dicono ancora i risparmiatori, che il governo si ispiri all'esperienza spagnola anche se in Spagna la procedura non è stata adottata per gli obbligazionisti subordinati. L'arbitrato è stato adottato solo per gli azionisti privilegiati e la banca stessa ha appena annunciato un rimborso per tutti gli investitori, comprensivo di interessi. Noi non arriviamo a tanto, dicono ancora, ci accontenteremo di riavere soltanto quello realmente investito. Intanto ci avviciniamo all'ennesima manifestazione a cui parteciperà anche l'Associazione Vittime del Salva Banche, ovvero quella messa in calendario per domenica 28 febbraio in Piazza della Repubblica a Laterina. Il riferimento alla famiglia Boschi non è per nulla velato.